Però a lei non piace questo nuovo rapporto Stato-Regioni? Assolutamente no, perché è chiaramente una riforma che va nella direzione di accentrare sempre di più poteri e funzioni sullo Stato centrale, cioè su quell'organo che tra l'altro è quello che spreca di più in Italia. Non è che le regioni avevano dato grande prova in questi anni? Però regoli le regioni, ma l'autonomia e i territori la devi lasciare, perché se no le cose andranno sempre peggio. Se tu cerchi di accentrare sempre, ma perché lo fanno? Perché hanno il compitino da fare che gli impone l'Europa. E quindi di conseguenza è un processo che parte da monti e piano piano si sta sviluppando. Noi stiamo perdendo gradualmente sovranità perché l'Europa ci chiede di perdere sovranità. Quindi votare no a questa riforma è votare no contro un processo di perdita di sovranità e azionale. Mi dicono una cosa, ma secondo lei per come è impostata ed è strutturata la riforma diminuirà il contenzioso tra Stato e Regioni o no? Questo lo vedremo solo vivendo, però in questo momento sicuramente c'era un forte contenzioso. Ma al massimo vai a modificare determinate norme da quel punto di vista lì. Ma non puoi andare a schiacciare e a sopprimere tutte le tensioni di autonomia territoriale che comunque sono legittime secondo un principio di sussidiarietà che è presente nella Costituzione.